L'ora esatta e offerta da... TANI IBABI PONDONO BADANI AIUTIAMOLI A CASA LORO AIUTIAMOLI A CASA LORO WESCHI NEL TERU BRAVO AIUTIAMOLI A CASA LORO CASA LORO CRUSPAR CRUSPAR AIUTIAMOLI A CASA LORO SONO JAPONNEZE AIUTIAMOLI A CASA LORO A CASA LORO AIUTIAMOLI A A aiutarci aiutami ad aiutarti aiutami aiutami ad aiutare me ad aiutare tutti aiutamogli a casa loro aiutiamogli a casa loro a casa loro lavoreremo affinché combatteremo defenderemo questa odiosa immigrazione che non è immigrazione ma una vera e propria esodato